GF VIP GF VIP – Cecilia rivela le dimensioni intime di Ignazio, Aida la gela GF VIP – Cecilia rivela le dimensioni intime di Ignazio, Aida la gela, ma Gioglio la rimprovera. . Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non ci stanno facendo mancare davvero nulla a questo grande fratello VIP. Se il compito del reality è quello di portare la quotidianità dei VIP, anche quella più privata e intima, nelle case di milioni di italiani, la missione è assolutamente compiuta. . La sorella di Belen, dopo essersi scambiata bollenze e fusioni con l'aitante ciclista, stavolta ha rivelato un dettaglio molto molto caldo del bel Moser, le sue dimensioni intime. . Lo ha fatto davanti a Malgioglio che subito si è premurato di rimproverarla. . Nelle ultime ore la Rodriguez è anche stata raggiunta da una battuta tagliente di Aida. . . Andiamo a scoprire tutto. . . . GF VIP Cecilia a Malgioglio, Ignazio è superdotato, il paroliere reagisce. . Cecilia, mentre orbitava attorno alla tavola dove c'erano seduti Cristiano e Lorenzo Flaerti, si è lasciata sfuggire quel dettaglio piccante sul Moser che incendierà assai le chiacchiere attorno al reality. . . Ignazio è molto molto il. . A parlare è Malgioglio che però viene interrotto dalla Rodriguez, superdotato. . . Il paroliere, ascoltando l'uscita dell'Argentina, resta di sasso prima di ritrovare le parole, maleducata, vai fuori in giardino. . Subito, maleducata. . Mai sentito cosa mi ha detto? Basta non voglio sapere le vostre cose personali. . Moser, anch'esso orbitante attorno alla tavolo, ha voluto dire la sua, ironizzando sulla frase, ma cosa ti sei bevuta? Comunque, Cristiano io sono un cucciolo di Rottweiler. . . Ha Cecilia l'ultima parola, ma scusa Cri, sei tu che me le tiri fuori. . . . La battuta tagliente lascia di stucco la sorella di Belen. . Nelle ultime ore, Aida, donna di poche e misurate parole, ha lanciato una frecciatina assai tagliente alla neo-coppia. La espica, riferendosi alla Rodriguez mentre stavano parlando in maniera distesa e simpatica, si è lasciata sfuggire una battuta affilata. . Devo buttare lui, Ignazio, NDR, nella spazzatura? Ha domandato con l'onia Cecilia. . La venezuelana, con un riso enigmatico, ha replicato, quello lo farai te, non so quando, ma presto. . . L'Argentina è rimasta di stucco, mentre la modella 35enne si è allontanata. . . . . .